Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Buongiorno, sono Alessia Bronico e oggi per Alma Poesia leggerò alcuni versi di Giammario Villalta tratti dalla raccolta Telepatia, edita per i tipi di lietocolle nel 2016, dalla sezione Telepatia II. Quando ti penso, perché so che un esistere vero è dove mi porta a te, a me ti porta il pensiero. Pure se nulla afferro, nulla è. Cosa tra cose, corpo tra corpi, perché? Occupi spazio, profumi, sei causa di decisioni e rinunce. Lo sai che non posso chiedere, né avere altra risposta. Eppure, sei tu che parli, fai l'amore e la morte. Social Podcasting. Your Digital Friends.